Grazie a tutti e grazie di essere venuti a Pordenone, in Friuli, Venezia, Giulia. Cari amici, perché questa sera mi sento davvero tra tanti amici, è davvero un orgoglio e un onore per me rappresentare la Lega come coordinatore regionale in questo particolare momento storico. Un momento importantissimo che vede non solo la Lega governare da cinque anni in maniera straordinaria questa regione, con Massimiliano Fedriga, che oltre ad essere una grandissima persona e anche un amico, ma soprattutto un leghista della prima ora. E poi continuiamo con l'allineamento stellare favorevole. Un momento straordinario perché non solo governiamo il Friuli, Venezia, Giulia, tanti comuni, tante amministrazioni, 300 amministratori, pensate, in questa regione hanno la tessera di militanti della Lega, ma soprattutto perché in questo allineamento stellare governiamo il Paese. Grazie Matteo per aver portato ancora una volta la Lega al Governo dell'Italia. E poi un ringraziamento particolare perché penso che davvero sia un momento storico per la Lega, per il Pordenone, per il Friuli, Venezia, Giulia, quello di avere cinque ministri, un vice ministro, due capigruppo a scamera e senato presenti nella nostra città e nella nostra regione contemporaneamente, è una cosa davvero epocale che ci deve rendere davvero orgogliosi tutti quanti. Quindi ai nostri ministri, ai nostri viceministri e anche ai nostri capigruppo un grande ringraziamento e un grande applauso. E soprattutto siamo qui perché il nostro obiettivo è quello di continuare a governare con il buon governo della Lega al servizio dei cittadini per altri cinque anni con Massimiliano Fedriga, la sua squadra e tutta la Lega, il Friuli, Venezia, Giulia. E lo abbiamo dimostrato in questi anni con politiche per le famiglie, per le imprese, per i lavoratori, per le partite IVA, iniziative importantissime, in un contesto storico che non lo dico io mai fatti è stato drammatico. Ebbene, i risultati sono straordinari e non solo il Friuli, Venezia, Giulia è una regione modello, ma abbiamo anche un governatore della Lega che è uno tra i più apprezzati d'Italia. In bocca al lupo davvero a Massimiliano per questa grande sfida e per un futuro che darà soddisfazioni a tutti i cittadini. Voglio concludere ringraziando anche tutti coloro che sono stati al fianco di Massimiliano in cinque anni, quindici consiglieri regionali che tutti i giorni con grande orgoglio non solo hanno tenuto sul petto l'Alberto Zagiusano, ma hanno tenuto anche alta la bandiera, le idee e gli ideali del nostro movimento. Allora a loro e ai nostri assessori regionali un grande ringraziamento e un grande in bocca al lupo anche a loro per questa campagna elettorale che li porterà sicuramente a governare con la Lega questa regione. Concludo il mio intervento ovviamente con uno slogan che è lo slogan che ci siamo dati. Noi siamo la Lega del buon governo, siamo la Lega non dei fatti, quella che è concreta e sempre sul territorio dà davvero risposte ai cittadini. Allora noi abbiamo coniato un nostro slogan che è lo slogan di questa campagna elettorale e con questa mi congedo ed è scelgo Fedriga, scelgo la Lega. Adesso voglio davvero presentare due persone straordinarie. La prima è il nostro capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Buonasera a tutti e prima di tutto grazie per l'invito qui a Pordenone, è un piacere tornare in Friuli Venezia Giulia e devo dire che passando qualche minuto fuori dal centro fieristico ho parlato con alcuni di voi e mi pare che qua non ci siano dubbi su come andranno le elezioni la settimana prossima. Quindi tutti avete la consapevolezza che il nostro Massimiliano ha lavorato alla grande, che l'azione di governo che ha parlato avanti è stata un'azione apprezzata dai cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma noi dobbiamo fare qualcosa in più. Noi non dobbiamo soltanto portare Massimiliano Fedriga a tornare a fare il Presidente della Regione. Noi dobbiamo fare in modo che dalle elezioni delle Friuli Venezia Giulia ne esca una Lega ancora più forte di quello che è. E come possiamo fare questo? Diceva giustamente prima l'amico Andreosto, parlava di pragmatismo, di concretezza. Ecco, noi dobbiamo far presente ai vostri concittadini, quando farete campagna elettorale nelle prossime ore, nelle prossime settimane, che la Lega oggi rappresenta il partito del governo, il partito dell'equilibrio, il partito del radicamento sul territorio, il partito che anche nei momenti più difficili ha saputo prendersi delle responsabilità e dare risposte ai cittadini. E su questo io voglio citare proprio Massimiliano Fedriga per il lavoro che ha fatto come Presidente della Conferenza delle Regioni, quando il nostro Paese era piegato dalla pandemia, perché è stato capace insieme al Governo di trovare soluzioni che contemperassero l'esigenza di salute pubblica a quelle economiche chieste dal territorio, perché la Lega oggi sta dimostrando a Roma che non ha soltanto dei principi e delle idee, ma che sa dare delle risposte e mettere in campo le cose in cui crede. A fronte di una sinistra ideologica, a fronte di una sinistra che va a slogan, ormai dopo il congresso che ha eletto Lashlein, ormai siamo al delirio totale, ormai siamo alla propaganda pura, siamo alla demonizzazione dell'avversario, siamo distanti quanto più possibile da due agenze concrete, noi abbiamo dimostrato in pochi mesi di saper risolvere i problemi. C'era un contratto collettivo nazionale della scuola fermo da anni, l'abbiamo sbloccato e gli insegnanti oggi hanno uno stipendio più alto, le pensioni non venivano indicizzate da anni, sono state indicizzate a partire da quelle più basse e i pensionati hanno qualcosa in più in busta paghi, in pensione. Abbiamo tagliato il cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti, abbiamo mantenuto la promessa sulla flat tax rispondendo alla richiesta di tantissime partite IVA e tantissimi imprenditori e oggi la flat tax fino a 85 mila euro di fatturato è realtà. Abbiamo introdotto la flat tax incrementale al 15%, con la delega fiscale la estenderemo anche ai lavoratori dipendenti e la stessa cosa varrà per la no tax area. Abbiamo bloccato la legge Fornero con la quota 41, tutte cose che sembravano impossibili, ci dicevano che era demagogia e invece in pochi mesi di governo l'abbiamo fatto, ma soprattutto abbiamo incanalato il Paese verso il percorso dell'autonomia differenziata. Per questo vi chiedo un grande applauso per il Ministro Calderoli. Dopo anni di parole, in pochi mesi siamo sulla strada giusta e la stessa cosa dicasi per semplificare i lavori pubblici. Il nuovo codice degli appalti sarà in realtà tra poche settimane grazie al lavoro del Ministro Salvini. Esattamente come sul caro energia abbiamo iniziato a vedere le bollette piano piano, sono ancora molto alte, però abbiamo iniziato a vedere le bollette scendere grazie alle misure che sono state messe in campo dalla Lega nel governo passato e che il Ministro Giorgetti ha potenziato con la legge di bilancio e porterà avanti anche nella prossima legge di bilancio. Grazie alla Lega abbiamo tagliato l'iva sul pellet, abbiamo tagliato l'iva sul teleriscaldamento, abbiamo aumentato il bonus sociale, abbiamo cercato di fare una legge di bilancio che fosse attenta ai più deboli, ma oltre agli aspetti concreti e vado a chiudere, stiamo facendo anche delle battaglie di principio in Italia e in Europa che non sono legate solo al governo, ma sono legate alla difesa dell'interesse del nostro Paese che è prima di tutto l'interesse del lavoro e dei lavoratori. Quando noi in Europa diciamo no allo stop dei motori tradizionali e all'obbligo dell'auto elettrica, noi non stiamo facendo una battaglia contro l'ambiente, noi stiamo facendo una battaglia per difendere le industrie e le fabbriche in Italia, perché a noi quei 75 mila lavoratori che per le ideologie green rischiano di restare a casa stanno a cuore. Quando noi in Parlamento facciamo una battaglia contro la direttiva sulle case green non lo facciamo perché siamo contro l'ambiente, ma lo facciamo perché sappiamo bene che la nostra gente i soldi per ristrutturarsi la casa, perché glielo dice l'Europa, non ce li hanno e chi glieli deve dare i soldi? Facciamo come col 110%, paga pantalone perché qualcuno così va in giro per l'Italia a dire che è tutto gratis, direi di no, bisogna trovare delle soluzioni diverse. Come sul tema dell'immigrazione vi state rendendo conto che qualcuno ha fatto delle proposte roboanti in campagna elettorale, ma alla fine per cercare di contenere e risolvere il problema dove stiamo andando? Stiamo andando a rispolverare quelle misure e quei provvedimenti che erano nei decreti sicurezza di Matteo Salvini perché ha gli slogan, noi abbiamo contrapposto la concretezza anche lì, l'immigrazione in Italia è stata fermata quando Matteo Salvini era ministro degli interni e quando c'erano i decreti sicurezza e l'immigrazione si ferma solo se in Europa non si fa quello che chiede la Schlein, non si va a chiedere la redistribuzione, qua in Friuli Venezia Giuliani sapete qualcosa perché quello dell'immigrazione è un problema fondamentale, non c'è la rotta mediterranea ma c'è quella balcanica. Il problema dell'immigrazione si risolve soltanto se blocchiamo le partenze, non c'è nulla da redistribuire, bisogna passare dal principio che immigrare illegalmente in un paese è un reato e su questo noi non transigiamo, non si può arrendere a quella che è la logica della sinistra che vorrebbe porte aperte per tutti, intanto loro un povero o un migrante non l'hanno mai visto perché con le case green, l'auto elettrica e le ideologie dell'accoglienza parliamo di persone che probabilmente fuori dalle ZTL delle grandi città non sono mai uscite, noi invece siamo sul territorio, siamo quella gente comune, abbiamo amministratori eccellenti come Massimiliano Federica e su questo chiediamo il voto del Friulani per le prossime elezioni regionali. Viva Pordenone, viva Friuli Venezia Giulia, viva Matteo Salvini e in bocca al lupo a Massimiliano Federica. Prima di presentarvi il prossimo ospite a cui tengo davvero, nella mia scaletta è saltato qualcosa quindi ci tengo però a sottolinearlo, a dirlo ora, oltre ovviamente a ringraziare tutti i 47 candidati della Lega che hanno deciso non solo di ricandidarsi ma di metterci la faccia per candidarsi alle elezioni regionali, volevo ringraziare che sono qui con noi i sindaci della Lega che sono impegnati in una importante campagna elettorale per essere eletti o rieletti e allora li nomino sono Renzo Dolfi di Bruniera Pietro Fontanini per Udine Jessica Cantone per Fiume Veneto Pietro Valent per San Daniele del Friuli Antonio Del Fiol per Polcenigo Ernesto Zanet per Zoppola Ed ora è ancora con grande emozione che vi presento un'altra persona straordinaria perché è il mio capogruppo al Senato e qui con noi Massimiliano Romeo Ciao Pordenone, ciao Friuli Venezia Giulia, innanzitutto un in bocca al lupo forte a Massimiliano Federiga a tutti i candidati per la Regione e a tutti i candidati sindaci che sia una tornata che riconferma il buon governo della Lega perché noi siamo qui a parlare soprattutto della nostra esperienza, dell'esperienza dei nostri amministratori della capacità che abbiamo di affrontare i problemi guardandoli con serietà, con pragmatismo cercando di evitare le ideologie e gli interessi di alcuni che invece non guardano a quello che veramente è il bisogno dei nostri cittadini e del nostro popolo Fatemi solo concedere, visto che vedevo il vostro volantino che è quello della campagna elettorale dove si mettono in evidenza non solo le buone azioni amministrative ma i valori in cui crediamo perché la Lega è un partito che non sa solo amministrare bene le regioni, i comuni, in Friuli insomma abbiamo un esempio direi illuminante ma crede anche in alcuni valori, in alcuni valori che sono a nostro giudizio assolutamente importanti il valore dell'identità, il valore della famiglia e anche qui in maniera molto pragmatica è davvero assurdo pensare che non si possa tutelare i diritti individuali, i civili delle persone e per forza bisogna per fare questo distruggere la famiglia no, si possono benissimo fare entrambe le cose, tutelare i diritti e tenere viva la famiglia che poi è il fulcro, è il nucleo della nostra società e che va sostenuta e va difesa fino in fondo ma anche sul tema della sicurezza, del lavoro a proposito di sicurezza io lo dico quando si discute del tema dell'immigrazione bisognerebbe sempre ricordare che c'era un ministro che ha fermato le partenze ha quindi ridotto il numero degli sbarchi e ha ridotto anche il numero dei morti e alla fine cosa ha fatto questo paese ignobile da un certo punto di vista ma più che paese, una parte della classe politica di questo paese l'ha messo sotto processo e allora poi che cosa si vuole credere di poter risolvere determinati problemi motivo per cui insistiamo e visto che il decreto cutro sarà al Senato noi lavoreremo per ripristinare alcune regole chiare che servono per far capire ai cittadini che bisogna assolutamente evitare che ci siano le partenze non incentivarli riducendo alcune forme di protezione speciale che è una protezione tutta italiana, non esiste a livello europeo concentrandolo solo davvero da chi ha delle difficoltà oggettive cercando invece di andare ad aiutare queste persone a casa loro motivo per cui con insistenza abbiamo chiesto che le istituzioni europee e non solo quelle europee ma anche la stessa alleanza atlantica comincino a guardare con interesse il Nord Africa cercando di stabilizzare quelle aree perché se non aiutiamo l'Africa difficilmente riusciremo a fermare un'ondata migratoria visto che poi ci sono anche paesi in quelle zone che potrebbero avere questo è quello che abbiamo sostenuto degli interessi per destabilizzare la stessa Europa quindi con un po' di attenzione, cooperazione internazionale aiuti laddove davvero servono anche perché bisogna affermare un diritto visto che tutti parlano di diritti che è il diritto per noi principale, fondamentale visto che prima parlavamo di identità che è il diritto a non emigrare ossia a vivere e a prosperare nella propria terra d'origine questo lo ricordano sempre in pochi ma noi, e mi avvio a chiudere difendiamo anche la libertà e la democrazia perché la Lega nasce per difendere la libertà la Lega va a Pontida a gridare viva la libertà noi questo ce lo ricordiamo e purtroppo oggi libertà e democrazia sono sempre molto in pericolo non solo perché ci sono paesi esterni dalla Russia alla Cina ad altre autocrazie che indubbiamente mettono in difficoltà e in pericolo la libertà dell'Occidente ma c'è anche un qualcosa nella nostra realtà in Occidente a cui dobbiamo stare attenti la libertà non bisogna solo difenderla dall'esterno ma anche dall'interno perché c'è un pensiero, un pensiero unico dominante che su tantissime argomentazioni guardate anche solo la polemica di questi giorni sul tema dell'utero in affitto che dovrebbe essere reato in quasi tutti i paesi del mondo eppure sembra quasi che dire che l'utero in affitto e reato sia assolutamente ecco non tutelate i minori e quant'altro no, c'è un pensiero dominante per cui basta che tu dici un qualcosa che io ho detto questo in aula l'altro giorno che si discosta minimamente da quel pensiero che subito vieni criminalizzato no, noi dobbiamo difendere questa libertà dobbiamo difendere la libertà di poter esprimere le nostre giuste opinioni e lo faremo senza paura senza alcuna paura e senza alcun timore come ci dovremmo difendere anche da alcuni interessi che poi si associano a ideologie perché quando io sento e parlo di agricoltura chiudo così che i nostri agricoltori che i nostri allevatori di fatto inquinano perché oggi c'è la questione della tutela e della difesa dell'ambiente ma non è che dicono così perché inquinano davvero ma semplicemente perché qualcuno in luoghi in certi club privati non eletti da nessuno gente lontana dalla democrazia prendono delle decisioni o hanno degli interessi a portare avanti il business in questo caso di cibi sintetici di insetti e quant'altro allora no noi dobbiamo riaffermare la nostra tradizione le nostre origini i nostri prodotti oggi sono stato dal sindaco famosissimo paese San Daniele del Friuli difendiamo quella che è la nostra storia i nostri prodotti la nostra economia il made in Italy e non dobbiamo avere paura del pensiero unico perché la Lega nasce per difendere quella libertà nasce per difendere quelle che sono le nostre tradizioni le nostre virtù e quindi avanti questa è la strada giusta e con Massimiliano Fedriga e tutta la squadra regione e tutti i sindaci la battaglia continua grazie viva la Lega viva Salvini viva tutti i nostri ministri la nostra squadra di governo grazie grazie Matteo perché siamo circondati da persone straordinarie e questo davvero fa onore al nostro movimento e anche ai nostri cittadini che ci votano e ai quali rappresentiamo adesso ha un altro grandissimo onore che è quello di presentarvi la nostra moderatrice di questa sera è una noto volto nazionale è la vice direttrice del Tg2 Maria Antonietta Spadorcia io buonasera li chiamo io? allora è cambiato un po' il programma buonasera e benvenuti e adesso i ministri della Lega Matteo Salvini bene la foto di Rito e adesso siccome io sono abituata alla televisione ci saranno tempi televisivi cominciamo dal ministro Calderoli ministro Calderoli il presidente della Repubblica ha firmato ha firmato il DDL Autonomia lei ha detto è un passo in avanti quali sono i prossimi passi e che tempi si aspetta? allora innanzitutto mi lasci salutare gli amici con un mandi che va bene a tutti e poi prima di rispondere sarò puntualissimo però una gioia che ho vissuto questa mattina a Udine dopo 20 anni sono tornato al castello di Udine ero stato nel 2003 a fare un comizio di chiusura allora il castello era dello Stato grazie al federalismo fiscale quel castello oggi è del comune di Udine quella legge l'ho scritta io quindi sono contentissimo e mi complimento per le opere d'arte e lo stato di mantenimento del bene perché tanti beni affidati allo Stato vengono lasciati andare allo sfaccio tenuti in ordine mantenuti dei nostri enti locali vengono tenuti con una vetrina veramente complimenti perché è una cosa stupenda e ora torniamo alla tabellina di marcia io avevo abbiamo giurato il 22 di ottobre quasi cinque mesi fa avevo promesso che il testo in consiglio dei ministri sarebbe andato entro la fine dell'anno c'è andato il 2 di febbraio è stato votato in via preliminare il 3 di marzo è andato in conferenza per il parere grazie a Massimiliano Fedriga perché non è solo un grande presidente ma un gran presidente della conferenza apprettato da tutti i ministri da tutti gli altri governatori è veramente un fiore all'occhiello che possiamo spoderare in Friuli e anche a Roma settimana scorsa è stata votata in consiglio dei ministri la versione definitiva giovedì il presidente della repubblica ha firmato l'autorizzazione alla presentazione in parlamento perché ho detto è importante perché sono quattro mesi che mi sento dire che la legge è incostituzionale che spacca il paese siccome ritengo Mattarella un grande presidente il massimo garante della costituzione e dell'unitarietà del paese se l'ha firmata credo che quello che avevano raccontato fosse una balla clamorosa che hanno cercato di vendere per non far andare avanti una cosa che invece la Lega farà perché la Lega va dalle parole ai fatti quando Matteo mi chiese se volevo impegnarmi nel governo gli ho detto vorrei far quella cosa lì e lui mi ha detto se c'è qualcuno me lo disse uguale anche Zai e Fontana che può farcela sarai tu tentaci e metticela tutta ce la sto mettendo tutta e in più questa settimana sempre giovedì c'è stato un decreto del presidente del consiglio dei ministri che ha nominato un comitato tecnico scientifico che valuterà e scriverà tutti i diritti civili e sociali che i cittadini italiani hanno diritto di avere perché noi sappiamo quante tasse paghiamo nessuno ha messo in chiaro cosa invece lo Stato e il Comune e la Regione ti devono restituire in cambio di quelle tasse si chiamano livelli essenziali delle prestazioni hanno aderito 61 persone i più alti vertici delle amministrazioni dello Stato delle università del diritto costituzionale amministrativo internazionale e persone che nulla hanno a che fare con la politica se non la loro conoscenza della materia ci diranno quelli che sono i diritti civili e sociali che dovremmo garantire su tutto il territorio nazionale poi sarà l'elettore a giudicare l'amministratore per vedere chi è bravo e chi non è bravo e nessuno si potrà più nascondere ci ha dato già delle anticipazioni al secondo giro gliene chiederò qualcun'altra Ministro Valditara in pochi mesi ha creato una vera e propria rivoluzione insomma ha fatto anche ha fatto notizia ma non è che ci sta preparando una riforma della scuola ma innanzitutto devo dire che la riforma della scuola si fa toccando quei temi nodali della scuola partendo dal contratto per esempio è stato ricordato prima anni per arrivare alla conclusione di un contratto in poche settimane noi siamo riusciti devo ringraziare anche Giancarlo Giorgetti che ha messo a disposizione alcune risorse importanti siamo riusciti a chiudere una trattativa non facile è stato il più importante aumento contrattuale per un milione e duecentomila lavoratori ed è stato un primo segnale per docenti presidi per tutto il personale della scuola che svolge un ruolo importantissimo per i nostri ragazzi poi c'è anche il tema di ridare autorevolezza ai docenti di ripristinare il principio di autorità nelle scuole che non c'entra nulla con l'autoritarismo significa riconoscere le istituzioni significa introdurre nelle scuole nelle classi il principio del rispetto rispetto verso i docenti rispetto verso gli studenti rispetto verso i beni pubblici dobbiamo uscire da quella scuola del 68 che aveva negato questi che sono valori fondamentali per una democrazia matura e allora quando io ho voluto mandare la famosa circolare sui cellulari non è certamente perché non mi renda conto che il cellulare che la tecnologia è fondamentale tant'è vero che stanziamo ben 2 miliardi 100 milioni di euro per la cittadinanza digitale in quella circolare sta scritto ma è perché se un ragazzo è a scuola è a lezione il docente sta spiegando non può guardarsi un film non può chattare con l'amico è una questione di rispetto e quando non molto distante da qua è successo un fatto a Rovigo quando quell'insegnante è stata presa a pallini con una pistola io ho detto ma com'è possibile che un insegnante oltre ad aver avuto l'affronto il dolore fisico debba anche pagarsi le spese legali dunque per la prima volta in Italia l'avvocatura dello Stato sarà messa a disposizione degli insegnanti dei docenti di tutto il personale della scuola perché questi non debbano affrontare anche l'onta del danno del danno economico e ieri dopo ben due episodi gravi un preside una professoressa presi a pugni 14 giorni di prognosi riservati in un caso ho detto adesso basta io credo che sarà fondamentale che lo Stato si costituisca parte civile contro chi aggredisce un docente un preside il personale della scuola perché sappia il violento che avrà non soltanto dall'altra parte l'insegnante che è stato aggredito ma avrà anche la forza dello Stato e chiederemo anche il danno da immagine perché mandare all'ospedale un insegnante o un preside certamente è un danno grave all'immagine della scuola italiana grazie Ministro Ministro Locapelli lei ha detto all'inizio è una questione complessa perché lei è in un ministero da una parte semplice e da una parte complessa è un ministero in cui si dialoga con le persone in cui si cerca di fare qualcosa per le persone inclusività ha detto dicevo vorrei che l'Italia fosse un paese inclusivo quali sono i passi davvero per rendere questo paese inclusivo intanto grazie e buongiorno a tutti grazie per l'accoglienza perché sono da due giorni in Friuli Venezia Giulio ho trovato gente straordinaria strutture meravigliose grazie Massimiliano Fedriga per tutto quello che stai facendo perché l'ho letto davvero nelle persone che ho incontrato dove il supporto della regione è fondamentale grazie ai sindaci naturalmente per tutto quello che stanno facendo è semplice nel senso che io essendo cresciuta nel sociale e con la lega nel cuore per me è un onore è un piacere svolgere questo compito ma è molto molto complesso perché parlare con tutti girare i territori ti fa capire quali sono le bellissime realtà che abbiamo ma anche i tanti problemi e le tante difficoltà non sempre abbiamo la risposta in tasca però devo dire che come ho detto questa mattina ad Anci Giovani se uniamo le nostre forze per cambiare il punto di vista dalla parte delle istituzioni ma dalla parte anche dei cittadini ognuno di noi può fare qualcosa perché finché leggo sui giornali di situazioni come quella della studentessa che non ha potuto essere ammessa all'esame di maturità perché alla sindrome di Down non gli hanno dato un'occasione quando leggo che c'è una ragazza che con il cane guida non viene accettata e gli viene detto di andarsene dall'appartamento o quando leggo che un ragazzo con l'autismo viene allontanato da un hotel vuol dire che dobbiamo ancora impegnarci tantissimo non solo con le leggi non solo con le norme con la forza di tutti noi e lo possiamo fare davvero è un lavoro faticoso perché io magari con quello che faccio non esco tutti i giorni sul giornale con un bel titolone su Repubblica oppure sul Corriere della Sera così tutti capiscono quello che stiamo facendo no io giro persona per persona associazione per associazione comune per comune per verificare insieme quello che possiamo fare per l'inserimento lavorativo per esempio ci sono molte strategie che possiamo mettere in atto possiamo migliorare le norme però possiamo anche avere un'attenzione in più oppure possiamo farlo con l'accessibilità universale nei nostri comuni dove qui vedo che c'è già lo sforzo di guardare oltre ci sono le barriere architettoniche ma ci sono anche quelle della comunicazione e dell'informazione e noi dobbiamo infrangerle tutte lo facciamo se tutti siamo consapevoli che la responsabilità è della comunità la disabilità non è il problema di una persona non è il problema di una famiglia ma tutti noi siamo responsabili per fare quel salto di qualità e lo dobbiamo fare insieme perché da sola non vado da nessuna parte ma se siamo tutti ce la facciamo grazie andiamo da un argomento all'altro ma anche perché poi ognuno ha la propria specificità mi dice ministro Gava ognuno ha la propria specificità e per far capire anche quello che è stato fatto in cinque mesi di governo che comunque non è poco ma soprattutto il guardare al futuro il ministero dell'ambiente è un ministero centrale e parliamo di PNRR ci puoi spiegare sinteticamente perché a volte è un po' ostico come verranno comunque investiti questi fondi grazie beh innanzitutto volevo anch'io salutare tutti prima non sono riuscita di persona ma lo farò alla fine grazie di essere qua ma soprattutto volevo fare un ringraziamento ai candidati che si sono messi a disposizione ai sindaci ai candidati in consiglio comunale in consiglio regionale ma soprattutto grazie all'organizzazione provinciale regionale della Lega per aver reso tutto questo possibile quindi un grazie veramente un applauso a tutti loro per tornare alla domanda certo allora questo è un ministero molto importante con delle tematiche importanti fondi del PNRR oltre un terzo sono stati destinati alla transizione ecologica sono tanti soldi sono oltre 70 miliardi e non possiamo sbagliare non possiamo sbagliare perché non possiamo sbagliare sotto il punto di vista ambientale perché noi dobbiamo raggiungere quegli obiettivi al 2050 quegli obiettivi sfidanti che ci siamo dati lo vediamo cambiamenti climatici in corso lo vediamo che cosa succede il problema della siccità o il problema poi delle bombe d'acqua e del dissesto odio geologico e quindi noi non possiamo sbagliare sotto il punto di vista ambientale tantomeno possiamo sbagliare però sotto il punto di vista economico consegnando magari industria tecnologie ad altri paesi che ovviamente hanno un altro tipo di tecnologia noi con questi fondi dobbiamo accompagnare le imprese verso una riconversione lo dobbiamo fare insieme perché come diceva il ministro Locatelli anche questo è un tema che dobbiamo affrontare insieme istituzioni associazioni cittadini e imprese noi abbiamo una tecnologia all'avanguardia sotto il punto di vista dell'economia circolare tant'è che abbiamo investito oltre 2 miliardi per l'impiantistica dei rifiuti dove appunto possiamo utilizzare e dare una seconda vita ai prodotti e soprattutto una cosa importante che è stata fatta un programma nazionale decidendo proprio l'autosufficienza impiantistica per il trattamento dei rifiuti non possiamo più avere un paese che ha un milione e trecentomila tonnellate che girano da una parte all'altra dell'Italia perché quella non è sostenibilità quella è una follia e quindi noi dobbiamo mettere insieme a tutela dell'ambiente ma a tutela dell'economia noi dobbiamo accompagnare appunto questo percorso tutelando quella che è l'economia e accompagnando verso uno sviluppo sostenibile e come lo facciamo con la tecnologia abbiamo messo a soldi per quanto riguarda le infrastrutture abbiamo visto che abbiamo superato a fatica ne stiamo ancora uscendo il problema della crisi energetica e quella è stata una grande lezione per il nostro paese ma anche per l'Europa ci siamo trovati con la coda sotto la porta soprattutto in Italia dove siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa con grande industria energivore e noi ci siamo trovati dipendenti quasi totalmente dall'estero siamo corsi abbiamo fatto immediatamente trovato delle soluzioni diversificando le fonti di approvvigionamento nel Repower Rio siamo riusciti a far introdurre anche nuovi gasdotti che saranno fatti per portare l'idrogeno che è un vettore che sicuramente ha bisogno ancora di ulteriori sviluppi ma che sarà uno dei vettori del futuro per l'industria per l'artuabate ma anche per il trasporto pesante e quindi noi abbiamo un punto di vista dell'ambiente concreto pragmatico noi non vogliamo assolutamente dire di no a tutto noi non dobbiamo bloccare tutto abbiamo bisogno di sviluppare questo paese di mantenerlo in vita e lo possiamo fare appunto solamente con la tecnologia senza che nessuno ci detti i tempi noi lo sappiamo che come ho detto all'inizio abbiamo un obiettivo sfidante ma i tempi ce li imponiamo e la tecnologia da seguire soprattutto i vettori energetici ce li scegliamo da soli perché abbiamo degli imprenditori che sono assolutamente all'avanguardia e hanno soprattutto investito tantissimo negli anni sotto il punto di vista di innovazione e di ricerca e quindi non li dobbiamo penalizzare non dobbiamo mettere loro i bastoni tra le ruote ma dobbiamo accompagnarli semplificando perché questa è la parte importante oltre ai fondi messi semplificando le procedure tagliando i tempi autorizzativi ecco questo è il nostro modo di procedere grazie ministro Giorgetti a lei è naturale la domanda cioè in questi giorni è successo di tutto le borse la Credit Suisse la Deutsche Bank ma i correntisti italiani possono stare tranquilli allora dico buonasera perché qui sembra sventure ma buonasera a tutti buonasera a tutti allora quando con Matteo Salvini ci viene prospettata l'ipotesi che uno della Lega e cioè io facessi ministro dell'economia ci chiediamo se valeva la pena accettare questo tipo di sfida perché quando questo governo così diciamo così che non gode di buona stampa tranne ovviamente la moderatrice era destinato a fare fallire il paese cioè lo scenario che si prefigurava per questi qui che andavano al governo era che crollassero i mercati le banche i titoli pubblici teoricamente non dovevamo neanche essere in grado di fare la legge di bilancio oltre evidentemente a non mantenere le promesse che avevamo fatte in campagna elettorale beh quello che sta accadendo è che falliscono le banche svizzere non so cioè dalle mie parti io abito vicino alla Svizzera l'immagine della banca svizzera era per definizione la sicurezza in assoluto quindi tutti portavano i risparmi in Svizzera invece quello che è accaduto è abbiamo fatto una legge di bilancio che tutti hanno apprezzato in giro per l'Europa mantenendo le promesse elettorali abbiamo credo dato una dimostrazione di serietà ispirando fiducia tra coloro che ci danno i loro risparmi perché abbiamo lanciato le iniziative del BTP Italia che hanno avuto un grandissimo successo tra i piccoli risparmiatori vuol dire che la gente ha fiducia in quello che stiamo facendo e la serietà che ispiriamo e quindi oggi noi ci presentiamo diciamo così davanti all'Europa al mondo con un sistema che è più uso un termine che a me non piace per niente ma va di moda resiliente cioè che è capace in qualche modo di affrontare e resistere alle sfide è chiaro però che questo non basta bisogna stare vigili io spero che le autorità di vigilanza europee italiane tutte quante facciano perfettamente il loro mestiere meglio forse di quello che è stato fatto negli Stati Uniti ma soprattutto quello che funziona che può funzionare per garantire anche il nostro debito pubblico che noi abbiamo lo sappiamo perfettamente tutti è quello di avere fiducia nella capacità di crescita di questo Paese e per avere fiducia in questa capacità di crescita vorrei spendere veramente un minuto sulla riforma fiscale che abbiamo promosso che non è semplicemente io l'ho detto in Consiglio dei Ministri non è semplicemente signore e signore vi facciamo pagare meno tasse no non è quella roba lì sì è anche quella roba lì ma dietro con la riforma fiscale c'è un cambiamento totale di impostazione lo sarei dire filosofica noi siamo diciamo un po' arriviamo da qualche anno in cui è prevalsa la cultura per cui lo Stato ti doveva mantenere anche se non facevi nulla invece il presidio di questa riforma fiscale è che ti premio se lavori ti premio se ti impegni e se tu in qualche modo che sei bravo migliori hai una tassazione flat cioè una tassazione piatta e questo vale sia per i privati che persone fisiche sia per gli imprenditori perché se uno investe ci crede promuove sviluppo ha diritto essere tassato di meno e in particolare se promuove occupazione ecco questa è la filosofia che sta dietro questa riforma fiscale c'è una grande fiducia nell'impegno nel lavoro nel sacrificio che ha fatto grande l'Italia nel passato e che la farà la farà grande anche nel futuro questo vale soprattutto per della gente per i friulani che sono famosi per questo tipo di valori di cultura Ministro Salvini le domande sarebbero tante ma partiamo da quello che è stato già citato dai due capigruppo cioè il codice degli appalti il fatto che Matteo Salvini ha accettato nel momento in cui è entrato al governo ed è entrato in un ministero così grande così complesso quello non solo di terminare delle opere ma ha accettato una vera e propria sfida innanzitutto grazie grazie a chi è qua ma grazie a voi perché avere centinaia di persone un sabato pomeriggio a Pordenone a parlare di politica di futuro e di buona amministrazione non è cosa da tutti i giorni quindi l'applauso ve lo dovete fare voi perché avreste potuto essere altrove a fare altrove a studiare a lavorare a riposare e quindi questa è la risposta a quelli che no ma la politica l'astensionismo la gente se ne frega evidentemente se hai qualcosa da dire da fare da proporre se hai un'idea di futuro la gente esce di casa anche nella bella Pordenone io sono venuto tre ore prima sono stato col sindaco all'ex birreria che anche grazie ai soldi del ministero dei trasporti diventerà un nuovo istituto tecnico per ragazzi che ospiterà aule ospiterà futuro ospiterà studenti da fuori sì quando abbiamo giurato l'abbiamo fatto con orgoglio con quella giusta dose di incoscienza che deve accompagnare chiunque abbia un'idea di futuro ben radicata sì quindi è un ministero affascinante sfidante centinaia di opere ferme vedo i sindaci ci stiamo impegnando per dare una risposta al nodo ferroviario di Udine una città divisa dei passaggi a livello sviluppare l'interporto di Gorizia aiutare la crescita dei porti di Trieste e di Monfalcone lavorare per una velocità sempre più alta sulla linea ferroviaria fra Venezia e Trieste e quindi non mancano le sfide però il codice degli appalti oggi venendo da Milano in macchina stavo lavorando con Chigi con i tecnici con l'avvocatura per le ultime rifiniture di un codice dei contratti che noi abbiamo improntato sul principio della fiducia quel codice a marchio Lega si fida dei sindaci e degli imprenditori meno tempo per la burocrazia noi ci fidiamo dei sindaci e degli imprenditori amiamo i territori siamo in terra di autonomia e quindi con Roberto in quattro mesi è stato fatto un lavoro straordinario faccio un passo oltre questa è una regione straordinaria un milione e duecentomila residenti centinaia di comuni comuni piccoli a volte piccolissimi ebbene Renzi spiegò qualche anno fa che cancellare le province avrebbe significato risparmiare soldi abbiamo visto che questo non è assolutamente quello che è accaduto con Roberto ragionavamo reintrodurre le province elette direttamente dai cittadini con i poteri con i denari con i funzionari con le... è una cosa intelligente però quello di cui vado orgoglioso di questi neanche cinque mesi che per noi sono cinque anni perché stare al governo Alessandra nella sua straordinaria bravura ingenuità diceva io con le cose buone che faccio comunque non tutti i giorni risco essere su Repubblica e sul Corriere tu potresti essere Gesù Bambino ma su Repubblica e sul Corriere non ci finici lo stesso non... vai tranquillo lo dico con tutto il rispetto per la libera stampa e io adoro le televisioni locali le radio locali e i giornali locali apro e chiudo la parentesi e ragioniamo anche col Ministro dell'Economia di come negli anni far pesare meno sul portafoglio degli italiani anche il canone RAI perché diciamocela tranquillamente che il servizio pubblico spesso lo fanno le televisioni locali le radio locali i giornali locali però... è il Ministro no è il Ministro ho detto negli anni Antonietta mi tocca difendere una grande agenda che è quella della RAI e la RAI merita comunque un applauso anche se non lo farete ti teniamo per Sanremo dai no scherzi a parte perché il sabato uno fra lo dicevano mi ricordo chi ognuno ieri ha passato la sua giornata in mille maniere studiando lavorando con vittorie e con sconfitte io per aver fatto il Ministro nella scorsa legislatura sono stato dieci ore da imputato nell'aula bunker del Tribunale di Palermo ed è un'esperienza che sconsiglio a chiunque di voi però tutto serve nella vita per migliorare fammi fare una riflessione diceva al di là del codice degli appalti del codice della strada a cui stiamo lavorando ho già fatto diverse riunioni con il Ministro della scuola con il Ministro degli interni con il Ministro dell'Università noi possiamo fare le strade più larghe più belle più moderne del mondo però avere più di 3.000 morti ogni anno sulle strade italiane è una strage che deve avere un punto di fine sotto i 30 anni la prima causa di morte per i giovani sono gli incidenti non è possibile e quindi lavoriamo sulla prevenzione portando l'educazione stradale vera a scuola ma anche sulla sanzione se ti becco ubriaco marcio o drogato alla guida e fai danno a qualcuno tu la patente non la vedi più per il resto dei tuoi giorni perché non puoi usare come strumento di morte quello che è uno strumento di vita e di lavoro al di là di questo e chiudo la cosa bella di oggi è che a Pordenone non so se sia usuale avere cinque ministri a Pordenone nel cuore del Friuli Venezia Giulia la signora applaude è il nostro mestiere quindi non è che veniamo qua perché è un dovere aggiungo la infezione perché è un piacere e chiudo e poi faremo un altro rapido giro e poi parlerà il protagonista di oggi che è Massimiliano chi sceglie la Lega chi l'ha scelta il mese scorso in Regione Lombardia dove abbiamo ristravinto le elezioni con Attilio Fontana chi ha scelto la Lega anche nella regione Lazio che non abbiamo mai governato nella vita dove abbiamo preso l'8,5% e in province come Rieti alcune percentuali noi le prendiamo a Pordenone a Udine a Gorissi a Trieste anzi qua facciamo una competizione perché noi la Lega ha preso in provincia Rieti il 21% quindi adesso poi vediamo vediamo chi va più avanti chi va più indietro chi sceglie la Lega sceglie una squadra perché ovvio che poi quando ci sono le preferenze quando ci sono tante liste quando per venire da Milano a Treviso a Pordenone vedi tanti cartelloni etelorali camionvela sorriso vota me vota lui vota Tizio vota Caio ovviamente auguro le stesse fortune ai 47 candidati della Lega chiunque scegliate sceglierete bene perché la Lega è garanzia di buon governo e i sindaci qua presenti e Massimiliano ne sono testimonianza però chi sceglie la Lega sceglie una squadra abbiamo passato anni difficili terribili stiamo uscendo da mesi complicati economicamente socialmente bellicamente sanitariamente parlando abbiamo tenuto duro e quindi io ringrazio coloro ai quali va gran merito dell'essere qua sicuramente la classe dirigente tra virgolette però un ringraziamento particolare a chi non ha mollato mai anche nei momenti difficili che sono le militanti e i militanti della Lega che anche quando era difficile andare al gazebo andare al bar andare in fabbrica andare in negozio mai mollare mai e quindi e quindi ci hanno augurato ogni sfortuna in regione Lombardia è andata come è andata molto bene in regione Lazio è andata come è andata molto bene io penso che il voto del 2 e il 3 aprile ed è sulle vostre spalle questa bella responsabilità sarà un'iniezione di forza di entusiasmo di energia per tutta Italia e per i leghisti di tutta Italia quindi grazie per l'energia che ci metterete nei prossimi sette giorni perché non c'è in ballo solo la riconferma di Max poi lui giustamente tocca ferro tocca quello che c'è e oggi ho detto da scaramantico quale sono che è probabile una vittoria risicata sul filo di lana settimana prossima e mi ricordo quanto è lontana l'era Serracchiani di qualche anno fa perché voi date tutto per scontato ogni tanto diamo tutto per scontato ma ricordiamoci il disastro del sistema socio-sanitario della giunta Serracchiani di qualche anno fa e di come è cambiato di come è cambiato il mondo in questi anni stiamo parlando della pre-istoria e adesso siamo nel futuro quindi io sono convinto che Massimiliano vincerà bene le elezioni questo non vuol dire che tanto siccome abbiamo vinto un voto in più in meno non cambia nulla no errore madornale chiunque non voti aiuta la sinistra perché lì una parte di voto organizzato ideologico a prescindere da tutto e da tutti c'è quindi io mi aspetto e restituisco il microfono che Massimiliano lunedì pomeriggio mi chiami come riconfermato il governatore Friuli Venezia Giulia perché di opere pubbliche ne abbiamo tante da portare avanti e mi aspetto uno straordinario risultato della Lega e sono convinto che voi lo porterete questo straordinario risultato della Lega Allora ricominciamo e un po' di canonerai lo lasciamo dai un pezzettino di canonerai lo lasciamo Allora ricominciamo con un giro questa volta velocissimo io vorrei fare un giro partendo da una parola Ministro Calderoli la parola è autonomia adesso ci deve svelare un altro pezzettino di quello che metterete dentro insomma Quando io vengo in una regione a statuto speciale sono come un bambino che va nel giardino nel paese dei balocchi e oggi mi sento così io nel 2010 ho sottoscritto l'intesa con l'allora governatore Tondo con cui si diede maggiore autonomia fiscale e maggiore funzione al Friuli poi è arrivata la sinistra al governo centrale e una signora della sinistra al governo e nell'anno del signore 2018 i nove decimi per esempio dell'IVA sono diventati 5,91 decimi applicandolo a tutti i tributi erariali quando io faccio delle intese è per dare più soldi più funzioni più responsabilità quando c'è la sinistra al governo centrale che abolisce le province per cui non può più eleggere presidente e consiglio e gli assessori provinciali dicono di essere autonomisti ma l'autonomia non la realizzano come hanno fatto per 22 anni o peggio ancora ti fanno delle manovre dallo Stato centrale che senza l'intesa determinano un maggior concorso cioè la regione speciale deve tirar fuori più soldi a vantaggio dallo Stato centrale è una cosa incostituzionale quella non il contrario quindi l'autonomia differenziata a tutti ma difesa totale anche dell'autonomia speciale e se si può qualche materietta in più anche alle speciali Ministro Ministro Valditara la parola merito ma guardi la parola merito è stata demonizzata da una sinistra che ha creato una scuola e una società classista cito dati di Union Camera pensate che l'ascensore sociale cioè la capacità del nostro sistema scolastico della nostra società di far sì che un ragazzo che nasce in una famiglia povera possa ascendere socialmente è bloccato dalla metà degli anni 70 pensate che nel 2022 noi siamo tornati indietro al 2000 questo vuol dire che questa società e questo modello di scuola è classista e allora che cosa noi dobbiamo fare ho varato qualche giorno fa la riforma del tutor e dell'orientamento la personalizzazione c'è una scuola che ho visitato alcune settimane fa che mi piace tantissimo ed è la espressione vera della scuola del merito in questa scuola che sta in Lombardia in Brianza non si può essere ammessi se non si è avuto almeno due bocciature cioè per entrare in quella scuola deve essere stato bocciato due volte e possibilmente aver avuto problemi con la giustizia voi direte cosa c'entra col merito c'entra e come perché pensate che quei ragazzi nel 90% dei casi trovano subito lavoro ho stretto la mano ad ognuno di loro sono ragazzi maturi responsabili sono cresciuti con il lavoro con l'educazione al lavoro l'alternanza scuola lavoro la personalizzazione dell'educazione cosa dovrà fare questo tutor dovrà far sì che il ragazzo che ha difficoltà possa essere come dire aiutato a recuperare quel ragazzo che in classe si annoia può essere aiutato deve essere aiutato ad accelerare allora l'idea di mettere al centro lo studente la persona dello studente l'idea di seguire ogni ragazzo perché possa realizzarsi nella vita l'orientamento dare ad ogni giovane un percorso che sia coerente con i propri talenti ecco la scuola del merito valorizzare i talenti di ognuno perché non esiste un solo modello di intelligenza esistono tanti modelli di intelligenza non esiste un solo percorso scolastico che abbia dignità esistono tanti percorsi scolastici e l'ultima grande sfida che noi dobbiamo realizzare è quella di dare dignità al percorso dell'istruzione tecnico professionale che è un vero pilastro su cui si regge l'intero sistema produttivo italiano Ministro Locatelli aiuto alle famiglie aiuto alle famiglie sicuramente chi ama e chi cura ha bisogno di un sostegno che non è semplicemente quello di entrare in una norma ma è davvero il fatto di mettere a disposizione dei servizi un sostegno che possa accompagnare il percorso di cura e quindi questo lo faremo partirà proprio questa settimana un tavolo di lavoro per la definizione e il riconoscimento del caregiver familiare io dico sempre chi ama e chi cura ha bisogno di questo supporto voglio solo dire un'ultima cosa ringrazio e saluto Marta che è una ragazza con disabilità ci sta seguendo da Napoli e mi ha scritto in questo messaggio sono contenta Alessandra di vederti sul palco con Matteo Salvini con gli altri ministri al fianco di Massimiliano Fedriga perché anche Marta da Napoli vede una squadra e sa che i ministri della Lega gli amministratori della Lega tutte le persone che si occupano di istituzioni nella Lega sono al servizio dei cittadini e le cose le facciamo insieme quindi ciao Marta e un abbraccio a tutti viva la Lega e viva Massimiliano Fedriga Vice Ministro Energia e autosufficienza due parole Energia stiamo sviluppando tutte le fonti di energia stiamo sviluppando il vettore dell'idrogeno che è assolutamente necessario efficienza energetica noi abbiamo un patrimonio immobiliare da efficientare lo sappiamo ma non possiamo assolutamente accettare i tempi che impone l'Europa non li possiamo accettare perché vuol dire che se non riusciamo a farlo entro quella data noi abbiamo dei cittadini che si trovano con le proprie case che sono delle scatole vuote e quindi non vengono assolutamente svalutate e soprattutto serve una gradualità serve una riforma dei bonus che siano strutturali per dare una mano ad efficientare e sicuramente è un percorso da fare assolutamente importante le energie le dobbiamo sviluppare tutte noi quando facevo prima riferimento alle semplificazioni proprio con le semplificazioni siamo riusciti a far approvare 12 gigawatt di energia rinnovabile noi dobbiamo andare nella direzione entro il 30 giugno approveremo il PNIEC entro una direzione di un mix di energie che porti appunto a quello sviluppo sostenibile senza penalizzare la nostra economia non sono assolutamente d'accordo e qua ringrazio il ministro Salvini che è andato a battersi in Europa e sta facendo un lavoro importantissimo per quanto riguarda il blocco delle auto a motore termico perché anche qua noi non possiamo consegnarci interamente alla Cina non possiamo sottostare a quelli che sono come oggi è uscito che la Germania sia svilata dalla contrattazione perché ovviamente ha voluto introdurre l'IFUEL che sono assolutamente per noi inaccettabili perché siamo troppo in anticipo non è una nostra tecnologia è ancora troppo costosa e la dobbiamo ancora perseguire e non possiamo bloccare gli investimenti sull'euro sull'euro 7 quindi lo ringrazio perché è stato un lavoro importante ce ne sarà ancora tanto da fare Matteo ma tanto lo so che tu sei presente attivo e sicuramente varei ascoltato grazie Ministro Giorgetti la parola se l'è data da sola che è fiducia fiducia perché due giorni fa tra l'altro lei è stato in Senato ha risposto ad un'interrogazione era il question time e ci ha riparlato di un insomma qualcosa che farete in più per questo caro Bollette è vero? no qualcosa che faremo in più oltre al lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi naturalmente in un casino mondiale che noi paghiamo più di altri perché le scelte fatte nel passato rispetto a come produrre energia le paghiamo oggi quello che cercheremo di fare è continuare a garantire alle famiglie in particolare le famiglie più in difficoltà e all'impresa un supporto anche in una fase comunque di prezzi calanti ma soprattutto vorremmo sperimentare a partire dal primo d'ottobre quindi per la prossima stagione termica un meccanismo che premi chi si impegna a ridurre i consumi cioè sostanzialmente un meccanismo che fa sì che coloro che riducono rispetto all'anno precedente i consumi pagano effettivamente molto meno l'energia naturalmente oltre a questo c'è un grande piano di investimenti alcune questioni le ricordate esattamente l'energia del futuro probabilmente sposterà l'asse strategico geopolitico da nord a sud cioè mentre oggi fino a ieri tutta l'energia veniva da nord est dal gas in particolare dalla Russia e dal nord Norvegia eccetera eccetera nel futuro l'energia in particolare l'energia verde grazie al sole all'idrogeno probabilmente sarà prodotta a sud magari in Africa e quindi sarà fondamentale il ruolo strategico che ha l'Italia che diventa il lab dicono così la porta di ingresso di tutta l'energia a rifornire tutta Europa quindi da qui l'esigenza di raddoppiare i gasdotti in questo momento dico questo tanto perché facci capire perché non si fanno rigassificatori nel sud del paese si fanno a Livorno e si fanno ovviamente perché perché se si producesse energia nel sud non saremmo in grado di trasportarla nel nord dove c'è diciamo la base produttiva che la consuma questa energia perché i tubi i gasdotti che ci sono in questo momento non sono capienti a sufficienza quindi uno dei grandi sforzi che faremmo appunto nel Repower EU è raddoppiare questa capacità di trasmissione per far sì che l'Italia diventi strategica essa non subisca le politiche di altre ma in qualche modo sia protagonista della politica energetica per gli altri Ministro Salvini è la parola anche lei se l'è data futuro sì sì nel senso di sì si stanno confrontando in Italia ma leggevo anche le cronache in Francia nel mondo due culture non politiche destra sinistra fascisti comunisti questo va bene per la Schlein va bene per qualche preside nostalgico siamo nel 2023 si confronteranno la cultura del no e la cultura del sì in Italia li vediamo ben organizzati e no TAV no TAP no Expo no Olimpiadi no Gas no nucleare no ponte no ferrovia no porto no aeroporto no flat tax no autonomia no quelli rabbiosi rancorosi invidiosi perennemente incazzati che contagiano il circondario di negatività non si può costa troppo sarà sarà una disfatta è inutile anche cominciare ma cosa cosa ti candi di sindaco che tanto non ce la fai cosa ti candi di regione che tanto non cambia niente ma chi ti fa il governatore gli fa il ministro gli fa il papà gli fa la mamma papà e mamma non genitore 1 e genitore 2 papà e mamma questo e dall'altra la cultura dei sì ogni miliardo di euro che riusciamo a mettere a terra al ministero come opere pubbliche sono 17.000 posti di lavoro penso che voi tornando a casa stasera porterete con voi qualche emozione qualche sensazione qualche riflessione spero un po' di energia però la priorità domani dopo domani lunedì e martedì non è la filosofia lavoro 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 donne e uomini della lega in qualunque istituzione stiano lavorando hanno il lavoro come prima priorità non lo iussoli o l'utero in affitto il lavoro dare lavoro a ragazze e ragazzi permettere a ragazze e ragazzi di sperare in un lavoro perché lavoro vuol dire famiglia questo è il futuro poi per me il futuro è innovazione non possiamo avere aziende italiane che portano la loro intelligenza in giro per l'Europa in giro per il mondo costruendo centrali nucleari ovunque tranne che in Italia non possiamo avere qualcuno che a Bruxelles dice dal 2035 o hai i soldi per l'auto elettrica o non sei nessuno perché passeremo dalla dipendenza dal gas russo alla dipendenza delle batterie cinesi e io non voglio essere mani e piedi legato alla Cina legato ai capricci della Repubblica Popolare Comunista Cinese questo è potremmo usare i biocarburanti quindi i sì abbiamo detto di sì alle Olimpiadi che porteranno anche non lontano da questo territorio centinaia di migliaia di turisti e miliardi di indotto nell'inverno del 2026 dove le Alpi italiane saranno in diretta mondiale ovunque sia opere pubbliche di ogni genere sia l'autonomia sia la flat tax certo Giancarlo apre e chiudo la parentesi un commissario europeo italiano che invece di darci una mano dice che il taglio delle tasse non è una priorità o è tranquillo economicamente parlando oppure non è esattamente in sintonia con il paese però il futuro è anche avere ragazze e ragazzi mi do del ragazzo a 50 anni che però si occupano di scuola di disabilità di economia di una regione e di tutte le regioni italiane di riforme di ambiente poi ce ne sono tanti altri quindi è una sfida sì ci sono tanti nostri sostenitori nelle stanze di comando no no perché ovviamente penso al vino penso al vino del Friuli Venezia Giulia e penso ai geni che a Bruxelles mettono sulle etichette il fatto che il vino è morte il vino fa male ma io penso che è sempre una questione di buon senso e di quantità evidentemente io preferisco un bicchiere di buon rosso o bianco friulano rispetto a qualche schifezza da laboratorio prodotta da qualche multinazionale che paga chi deve pagare a Bruxelles per convincerci che è meglio ma è giusto per fare un esempio e lo dico perché non ce ne saranno tanti lo diceva Giancarlo che aprono le porte al cambiamento alle piccole medie imprese perché perché se l'Italia è in condizioni di competere ad armi pari e a norme pari con gli altri paesi europei non ce n'è per nessuno noi siamo ancora la seconda potenza industriale europea nonostante lacci lacciuoli direttive regolamenti la casa green l'auto green poi quando ti vogliono fregare ti mettono il green ormai a tutti piace il green a chi non piace l'aria pulita l'acqua pulita le margheritine prima ero a Pordenone ho visto il laghetto con i pesci ho visto la riqualificazione ho visto il parco addirittura col sindaco diamo dei soldi e fanno una casa per i runner per i bikers per quelli che corrono e io li invidio perché se uno esce a correre a Milano o a Roma torna a casa più malato di prima quindi almeno a Pordenone se uno esce a correre piuttosto che a Udine evidentemente ne va della sua salute però tutto deve essere accompagnato e deve essere e chiudo con questo ragionamento economicamente sostenibile e compatibile perché qual è la mia paura non i processi non gli avversari sai che non so neanche come si chiama il candidato della sinistra poi adesso ti ascolto volentieri per capire chi sono i tuoi competitor per mia curiosità almeno a una settimana dal voto però quello che mi preoccupa è che di là sono abbastanza ben organizzati non hanno voti ma hanno soldi cioè perdono milioni di elettori in Italia e in Europa però hanno il portafoglio pieno e quindi provano a condizionarti con i mezzi di informazione provano a spiegarci e penso che su questo Massimiliano sia una garanzia che non abbiamo un passato cioè non abbiamo radici non abbiamo identità non abbiamo differenze siamo fluidi siamo incerti uno si alza la mattina e decide che cos'è io sono un liberale un libertario adoro un poeta un cantautore che che è vissuto a pane anarchia come Fabrizio di Andrè però non possiamo far finta che non siamo quello che siamo poi ognuno è libero di amare di crescere di cambiare idea di svoltare però se provano a cancellarci le radici le radici economiche delle piccole e medie imprese le radici enogastronomiche le radici culturali beh ormai è passata la festa del papà settimana scorsa anche quest'anno qualche preside qualche educatore che hanno sbagliato mestiere non hanno fatto festeggiare la festa del papà per rispetto nei confronti di qualcuno chi cancella la festa del papà e la festa della mamma non può fare l'educatore ha sbagliato mestiere perché se togli la mamma e il papà non è che dai una mano è questo lo dicevano Massimiliano e Riccardo il pensiero unico io ho fatto la tessera della Lega nel 90 per le diversità il che non vuol dire sentirsi superiore a qualcun altro perché se uno come bianco come nero come friulano come siciliano come portoghese o come esquimese si sente superiore a un altro quello è un problema però siamo diversi il buon Dio ci ha fatto diversi già a Pordenone io quando vengo in Friuli Venezia Giulia devo ricordarmi che sono in Friuli Venezia Giulia ma provincia per provincia devo ricordarmi dove è Friuli e dove è Venezia Giulia non è facile perché a volte ti do ma io qua sarò in Friuli o sarò in Venezia Giulia sarò in Carnia sarò nella Bassa sarò nell'Alta sarò nel Trevigian Pordenonese sarò sarà sul confine sarò un po' sloveno sarò cosa sarò ma è bello perché questo è un crogiolo di popoli però ognuno orgoglioso ecco la scelta per la Lega del 2 e il 3 aprile è una scelta del buon governo sicuramente e ringrazio Massimiliano e gli assessori e i consiglieri uscenti grazie fategli un applauso perché hanno governato per 5 anni in maniera egregia egregia e adesso tocca a lui però la scelta di quel simbolo lì che è una cosa grande che ciascuno di noi si porta dentro chi da 5 10 15 20 30 40 anni quello è un simbolo di libertà di identità di orgoglio che non vuol dire attenzione superiorità perché la superiorità morale lascio volentieri quelli di sinistra che se non sei di sinistra non puoi fare cinema non puoi fare teatro non puoi fare il professore non puoi scrivere un libro qua c'è gente diamo uno scoop che addirittura riesce a leggere diversi libri non solo la settimana in Ingbisga riesce a fare il sudoku ma anche quello complicato io no io mi fermo al sudoku 3 perché quello 4 non ci arrivo però noi non siamo superiori a nessuno ma siamo custodi orgogliosi delle bellezze e delle differenze di questa terra straordinaria quindi grazie ogni consenso in più che non è solo un voto perché il voto va e il voto viene il voto arriva il voto torna poi il voto Tizio il voto Caio il voto Sempronio quella scelta per quel simbolo lì è una scelta di appartenenza di fiducia di familiarità di comunità quindi grazie perché sono sicuro che il 2 e il 3 aprile dal Friuli Venezia Giulia nella sua interezza arriverà una marea di affetto a quello straordinario simbolo della Lega buon voto e buona fortuna a tutti e ora le conclusioni a Massimiliano Federica intanto devo dire che sono un po' imbarazzato perché nella mia campagna elettorale vengono 5 ministri vengono il viceministro vengono due capi gruppo che poi spero di poterli ritenere anche amici mi fa onore e spero di essere all'altezza anche della fiducia che mi hanno dato perché voglio ricordare la prima volta che mi sono candidato a governatore di frequenza Giulia è stato grazie a Matteo Salvini che aveva lanciato addirittura prima un anno prima della tornata elettorale il mio nome come candidato e come sa Matteo io non volevo fare il candidato presidente dopo in realtà ho capito che quando uno si indirizza una strada pensando che sia la migliore in realtà non è quello perché è stata una delle esperienze professionali umane ed altro più belle che ho avuto malgrado le grandi difficoltà che abbiamo dovuto superare e per questo mi ricollego quando diceva sia Alessandra che Matteo stesso è vero noi abbiamo governato come squadra io devo ringraziare i miei assessori i miei consiglieri perché in questa regione non è che c'è stato un presidente che ha tirato fuori qualche idea brillante nascosta o qualche coniglio dal cilindro è stato un lavoro faticoso quotidiano per cercare di superare quelle difficoltà che citava anche prima Riccardo che ringrazio anche delle parole delle difficoltà quotidiane non avendo in alcuni casi ne abbiamo affrontato momenti difficilissimi non avendo certezze prima è stata citata appunto la pandemia io non sapevo cosa era giusto fare e all'inizio nessuno conosceva cosa avevamo di fronte abbiamo cercato di operare per il bene della nostra comunità sperando di aver fatto sempre la scelta giusta ma con molti dubbi con molte difficoltà perché anche questa storia che c'è chi fa politica chi fa il politico che si debba presentare davanti ai cittadini dicendo non preoccupatevi ho la risposta a tutti i vostri problemi ho la verità in tasca se date la fiducia a me non c'è non c'era più nessun problema i treni saranno puntuali tutti saranno ricchi bisogna superare questo rapporto perché dopo ci lamentiamo che la gente non va a votare dobbiamo superare questo tipo di rapporto tra il letto e il lettore tornare a un rapporto di fiducia dove si possono dire anche dei no dove si raccontano le difficoltà dove si raccontano fortunatamente anche dei successi che si raggiungono nella propria azione amministrativa purtroppo abbiamo sempre vissuto un periodo dove la politica doveva fare propaganda pensando di dover guadagnare quel consenso in più quel voto in più tanto io penso che la gente sia molto più intelligente di quanto una parte politica creda non basta uno slogan e soprattutto oggi non basta più uno slogan e devo dire che quanto è stato detto oggi su questo palco con fatti molto concreti cercando di affrontare il problema ovviamente in una discussione limitata nei tempi però va in quella direzione va nella direzione in cui quello che vorremmo rappresentare nell'offerta che facciamo per i prossimi 5 anni non promettiamo lo dico con chiarezza non promettiamo di risolvere ogni problema ho chiesto a tutti i candidati e ringrazio tutti i candidati che mi stanno dando a mano in questa campagna elettorale di non fare promesse facili uno perché è un'autodifesa il giorno dopo tu devi smentire quelle promesse e sei mi scusino le signore sputtanato a vita quindi bisogna essere seri prima e essere seri dopo seconda cosa perché è meglio perdere un voto il giorno prima ma sapere che la fiducia che si riceve è basato su una fiducia ben risposta e non sulla menzogna che si è raccontata il giorno prima del voto perché è diventato e lo dico guardate è una riflessione che ho fatto ma prima di tutto che da candidato da cittadino noi dobbiamo o rivoluzionare questo rapporto con gli elettori devo ringraziare i sindaci perché anche questo anche i risultati che abbiamo ottenuto adesso magari ne racconterò qualcuno perché anche le cose positive ma voglio raccontare anche le difficoltà oggi in questi pochi minuti però voglio ringraziare i sindaci perché è stata un'alleanza tra istituzioni in questo territorio è stata un'alleanza per affrontare le sfide io dico la verità non pensavo di fare il presidente di regione con Vaia inizia con Vaia con una pandemia con la guerra con la crisi energetica con l'inflazione con gli incendi con la siccità sono stati cinque anni difficili e malgrado questo io vedevo l'altro giorno i numeri e lo dico al ministro dell'economia del Friuli Venezia Giulia siamo la prima regione come crescita di export siamo la prima regione come estroprocapite come crescita di estroprocapite abbiamo avuto un aumento importantissimo di PIL anche questo è fra le primi in Italia e abbiamo il più basso tasso di disoccupazione penso degli ultimi 15 anni anzi adesso il problema è inverso rischiamo di non cogliere opportunità di crescita perché ci mancano professionisti e forza lavoro e sarà un altro problema che dovremmo affrontare però dicevo questo però è frutto di un lavoro di squadra adesso ho citato tanti amministratori pubblici ma è stato anche frutto di una comunità che si è mossa insieme dal mondo dell'impresa noi facciamo mi ricordo quando c'erano il lockdown ed altre le riunioni con le categorie per decidere le misure da prendere insieme del volontariato dei lavoratori che in questa regione hanno avuto un'enorme capacità di mettersi a disposizione l'uno dell'altro dopo cosa abbiamo fatto noi abbiamo cercato di agire ho sentito alcuni ministri che hanno parlato per esempio dalle misure sulla famiglia sul sociale dall'impresa per esempio sulla famiglia io ritengo che sia stato uno dei cuori di questa consigliatura uno dei cuori perché noi abbiamo messo il 300% di risorse in più sulla famiglia rispetto a quello che abbiamo trovato abbiamo fatto misure dai contributi per gli asini nido dal secondo figlio addirittura arrivano a 450 euro al mese per figlio di fatto annullando quasi annullando la rete per i ragazzi con un ISEE per le famiglie di 50.000 euro molto alto perché non è una misura contro la povertà è una misura per la famiglia abbiamo messo lo sconto del 50% sul TPL sul trasporto pubblico per i ragazzi sotto i 26 anni da quest'anno anche per gli over 65 la dote famiglia dove mettiamo 400 euro per figlio a cui si sommano quest'anno una misura straordinaria di 200 euro che servono per tutte quelle attività extrascolastiche dei ragazzi pensiamo ai centri estivi dove la mamma e papà lavorano e ai ragazzi e ai ragazzi e ai bambini bisogna dargli ovviamente una prospettiva formativa che non è quella scolastica durante i mesi estivi abbiamo cercato di dare in contributo abbiamo fatto una norma che per adesso è ancora piccolina ma di cui vado molto orgoglioso ovvero la regione riconosce un contributo se la famiglia da 0 a 18 anni mette un contributo per la previdenza complementare del proprio figlio perché guardate questo sarà un problema del domani noi con i lavori saltuari con il contributivo perché noi oggi siamo solo quel sistema circa nel 2035 2038 che non avremo più il sistema misto ovviamente è quello di anzianità ma sarà totalmente contributivo avremo un problema come istituzioni noi per chi ad esempio per chi mette da parte dei soldi per i propri figli e quindi pensa già dal momento della nascita a quello che succederà una volta la regione riconosce un contributo e dice metto anche io delle risorse per accompagnarti in questo percorso abbiamo fatto la misura per l'attrazione dei talenti anche questo un sistema di welfare per le altre professionalità che decidono di tornare o di venire in Ferenza Giulia perché penso che la sfida del domani non sia soltanto quella di non fare scappare i cervelli all'estero anzi posso dirlo usciamo da questa demagogia se qualche nostro ragazzo o ragazza si fanno una bella esperienza di alta professionalità all'estero ben venga per la mente conosce il mondo diventa più competitivo a livello internazionale dobbiamo essere anche noi capaci di attrarre le grandi professionalità e le grandi capacità dall'estero perché vengono a dare la loro professionalità nel nostro territorio e su questo abbiamo fatto una legge rock sull'attrazione dei talenti poi abbiamo cercato mettendo insieme a questa parte sulla famiglia di affrontare anche i grandi emi penso quello della transizione energetica prima Bagna la citava anche questo abbiamo cercato di superare gli slogan di superare lo striscione difendere l'ambiente o le manifestazioni di piazza per accapararsi magari qualche facile consenso però voglio solo ricordare noi che mi accusano Federica non ha difeso l'ambiente lo dicono questa campagna giornale io voglio solo ricordare qualche misura mi secca fare questo elenco della spesa ma penso che i cittadini magari poi durante i 5 anni se lo dimenticano solo quello che abbiamo fatto da luglio dello scorso anno quindi dall'assestamento ad oggi abbiamo messo 100 milioni di euro per il contributo per il fotovoltaico per le nostre famiglie abbiamo messo 55 milioni di euro per le imprese abbiamo pagato lo studio per il campo sperimentale sull'agricoltura di precisione dato fondo perduto per le aziende agricole che innovano e vanno verso l'agricoltura di precisione abbiamo finanziato lo studio su impianti di desanilizzazione abbiamo finanziato il miglioramento con milioni di euro abbinati a quelli del PNRR per gli impianti in rigui a questo si aggiunge che siamo valle dell'idrogeno unica valle dell'idrogeno europea insieme a Slovenia e Croazia con la sigla di un protocollo siamo progetto bandiera sull'idrogeno del PNRR nazionale fate qualche breve elenco ma voi capite rispetto a chi si straccia le vesti a dire difendiamo l'ambiente e chi cerca di fare con tutti i nostri limiti però delle azioni concrete per dare delle risposte vere che siano sostenibili anche economicamente dalle nostre famiglie e dal nostro sistema produttivo abbiamo fatto un argomento che voglio citare quello che di cui ha fatto un accenno anche Matteo Salvini che è quello della sanità abbiamo risolto tutti i problemi no non la piena consapevolezza noi viviamo un problema di carattere nazionale che è quello della mancanza di professionisti in sanità medici infermieri operatori soci sanitari tant'è vero che abbiamo aperto un tavolo anzi due tavoli di cui io faccio parte come presidente della conferenza uno col ministero dell'università e della ricerca per affrontare il tema dell'attrattività delle lauree sanitarie e secondo col ministero della salute e col ministero dell'economia per anche un'organizzazione del sistema sanitario che possa dare risposta a una certezza per i prossimi anni avremo una carenza di personale se qualcuno fa questa campagna elettorale e torna al punto precedente abbiamo un rapporto di lealtà con i cittadini durante la campagna elettorale se qualcuno racconta che da qui ai prossimi mesi si risolverà il problema del personale sanitario racconta una balla bisogna saper raccontare anche le difficoltà che esistono purtroppo non sono solo nostre magari fossero solo nostre sono problemi di carattere nazionale che questo governo deve affrontare ma frutto di una mancata programmazione ventennale e frutto di una seconda cosa mi ricorre la famiglia di una denatalità drammatica e dopo possiamo raccontarci quelle che vogliamo ma se abbiamo su dieci ragazzi e ragazze e venti andavano a fare professioni sanitarie questo accadeva vent'anni fa oggi magari vanno sempre il venti per cento ma i ragazzi non sono più cento sono cinquanta e questo è un altro discorso a cui ci troviamo di fronte che dobbiamo affrontare che vale per tutte le professioni per la sanità ovviamente a un approccio drammatico però raccontando questo principio di verità io però voglio anche raccontare che questa amministrazione regionale ha messo più di un miliardo di euro per le investimenti sulla sanità chi mi ha preceduto ha messo 200 milioni abbiamo messo il 500% in più sono situazioni diverse ma di più ma di più uno dice Federica aveva più soldi e poi è vero ma dopo spiego perché Federica di più la cosa che però non posso sopportare proprio per cui ribadisco questo principio per lo meno di non dire menzogne in campagna elettorale che oggi c'è qualcuno che va in giro a manifestare per la sanità pubblica difendiamo la sanità pubblica contro chi la vuole privatizzare ricordo sommessamente che sono gli stessi che governavano non 100 anni fa ma 5 anni fa e sapete cosa è successo 5 anni fa? il fondo per gli stipendi dei dipendenti della sanità pubblica in Frivenza Giulia è stato tagliato di 25 milioni di euro noi l'abbiamo aumentato di 105 milioni di euro allora mi va bene tutto mi va bene tutto ma che qualcuno mi venga a insegnare dopo che ha tagliato gli stipendi dei dipendenti della sanità pubblica come si difende la sanità pubblica non ci sto non ci sto perché noi abbiamo vissuto l'impegno e raccontato le difficoltà perché non ci sono solo su di semplici o immediati però penso che i numeri testimoniano quanto abbiamo creduto nel nostro sistema sanitario e quanto vogliamo continuare a crederci non devo parlare troppo ma voglio dire un'ultima cosa mi hanno accusato in questi 5 anni Federica ha fatto tante cose la squadra di Federica ha fatto tante cose la squadra con Federica ha fatto tante cose perché avevamo tanti soldi è vero avevamo molti più soldi degli altri però sapete perché avevamo più soldi vi dico un segreto non perché Federica ha tirato fuori i miliardi dalla tasca altrimenti probabilmente adesso sarai col Big Gates qualche isola vi saluterei da lontano e vi manderei la foto non è per questo è perché racconto questa premessa la accennava prima Roberto nel 2011 scusate se vi rubo qualche secondo ma siccome è utile che i cittadini sappiano cosa vuol dire essere una regione stato speciale nel 2011 c'è una crisi del sistema del bilancio dello Stato Ministro dell'Economia Tremonti cosa dice fai i famosi tagli lineari taglia i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario alle regioni a statuto speciale come la nostra che non vivono di trasferimenti ma di una compartecipazione quindi una parte di tasse pagate sul territorio le trattiene per erogare i servizi dice beh non vi taglio le risorse perché non posso datemi un contributo straordinario ci sta in un'ottica solidaristica a te taglio tu mi dai un contributo straordinario peccato che negli anni succedano una serie di misure unilaterali da parte dei governi che si sono succeduti normalmente in legge di bilancio e diceva il Frevidenza Giuliano da più 100 da 200 da più 200 da 400 da più 400 da 800 divento presidente di regione dovevamo dare 836 milioni di euro all'anno su un bilancio di meno di 5 miliardi il 15% la regione che ha statuto speciale che in assoluto pagava più di tutti paragonata al suo bilancio una situazione drammatica altro che specialità oggi sono gli stessi che dicono difendiamo la specialità racconto un altro segreto racconto un altro segreto non esiste specialità senza risorse per poterle esercitare non esiste specialità iniziamo una battaglia importante adesso non voglio farla lunga sta di fatto che con l'ultimo patto siglato da regione Frevidenza Giulia regione Frevidenza Giulia ha più un patto che dura 5 anni più di 2 miliardi in questi 5 anni da rogare per i propri cittadini e da svolgere la loro competenza questa è la grande sfida dovremmo fare ancora molti passi avanti sicuramente sì sicuramente sì perché paghiamo perché paghiamo ancora di più di tutte le altre speciali sottolineo sottolineo paghiamo molto di più di altre speciali ma voi capite che sarebbe stato impossibile noi abbiamo le grandi competenze sono la parte finanziaria sulla sanità il TPL noi ci paghiamo da soli i comuni a differenza di altre regioni a statuto speciale lancio questo solo segnale che hanno più risorse lancio questo solo segnale no parte battuta però questa è la battaglia che abbiamo portato avanti non promettiamo dico a chi c'è qua immagino che tutti andranno a votare non promettiamo la luna continuiamo con i piedi ben piantati per terra a portare avanti forse sono dire stupidaggi di premia nel breve periodo forse sì perché sparare la grossa premia magari nel breve periodo però noi siamo la Lega è il più vecchio partito presente nel Parlamento quindi noi abbiamo costruito mattone su mattone anno dopo anno fatica dopo fatica superando quella demagogia della campagna elettorale e facendo vedere cos'è il governo della concretezza del pragmatismo per questo io sono orgoglioso via bene di avere i ministri qui oggi i capigruppo qui oggi li ringrazio ma sono orgoglioso che questi cinque anni che appena trascorso sono frutto di un lavoro di squadra di un lavoro quotidiano tante volte fuori dai riflettori però se oggi c'è un consenso che non so se si tradusce in voto andando in giro però c'è un ottimo un ottimo riscontro da parte dei cittadini è frutto di questa fatica quotidiana quindi grazie a tutti grazie per quello che mi avete dato in questi cinque anni perché è frutto del lavoro di tutti voi e spero e spero di e spero di avere l'occasione insieme a tutta questa gente di poter governare per altri cinque anni questa regione lo dico perché poi se le cose andassero bene sarebbe la prima volta che con le elezioni diretta c'è un presidente che dura due mandati in Friuli Venezia Giulia quindi sarebbe una cosa grazie a tutti e grazie a Matteo anche per la fiducia che ho sempre dato grazie e adesso tocca a te grazie grazie davvero è stata una grande emozione una grande esperienza e soprattutto grandi professionalità e competenze messe a disposizione del Friuli Venezia Giulia e di tutto il paese e allora un ringraziamento particolare al ministro Valditara alla nostra ministro Locatelli al ministro Giorgetti al ministro Calderoli alla vice ministro Gava al nostro segretario federale il ministro Matteo Salvini con un grande in bocca al lupo un grande applauso per il nostro governatore Massimiliano Fedriga e un ringraziamento davvero particolare a Maria Antonietta Spadorcia che voglio ricordare è venuta a Pordenone per questo appuntamento importante quest'oggi da Roma con una trasferta davvero veloce e un ringraziamento anche per la tua disponibilità e la tua competenza grazie a Maria la Spadorcia che è Maria Antonietta Spadorcia è una brutta giornata con te vice direttore del TG2 adesso facciamo una foto no facciamo una foto con me mi fate una foto mi fate grazie a tutti